Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò alcune foto fatte prima del trattamento ortodontico per mostrarvi qual era la mia situazione iniziale e poi altre foto durante il trattamento ortodontico. Tenete presente che io non ho ancora terminato, mancherà ancora qualche mese, quindi vi faccio vedere solo la situazione, non voglio dare nessun giudizio, nessun parere, vedrete voi insomma come sono i miei denti. Poi ci sono solamente degli interventi a livello estetico da terminare per avere un sorriso più bello. Io ho portato l'apparecchio per diversi anni, a maggio saranno 5 anni che io indosso l'apparecchio. È stato un trattamento molto lungo, molto faticoso e anche dispendioso, però spero veramente con tutto il cuore che ne sia valsa la pena perché insomma vedere poi il risultato finale quando toglierò tutto sicuramente mi ripagherà di tutti gli sforzi fatti. Bene, io vi lascio qualche immagine e magari ci vediamo dopo alla fine del video. Da queste prime foto, che sono le foto scattate assolutamente qualche anno prima di mettere l'apparecchio, sembra quasi che i miei denti siano dritti, ma già in queste altre foto, subito prima e subito dopo aver messo l'apparecchio, vedete come in realtà i denti siano storti. Qua ho fatto delle foto a distanza di qualche mese da quando ho messo l'apparecchio e vedete appunto come hanno iniziato a cambiare. Qua sembrano già quasi perfetti, ma in realtà non lo erano, tant'è vero che io poi ho dovuto anche mettere il baffo. L'ho dovuto portare diversi anni, ho anche cambiato gli attacchi, man mano che i denti si spostavano veniva modificata anche la posizione, infatti in alcuni casi il baffo è più in alto rispetto ad altri momenti in cui invece risulta più in basso. Ridere con l'apparecchio risultava anche un po' strano, vedete perché la bocca si piegava, assumeva una posizione strana, quindi non mi piace ridere con la bocca aperta con l'apparecchio e spero di poterlo fare a lungo dopo averlo tolto. Questa è la situazione odierna. Come vedete non c'è granché da dire, anche perché della mia esperienza ve ne ho parlato abbondantemente in tanti altri miei video. Ho dovuto portare l'apparecchio per tanti anni, così anche come il baffo. C'è stato un periodo in cui il baffo lo indossavo solamente la notte perché durante il giorno lavoravo e sinceramente lo trovavo scomodo e anche imbarazzante da tenere davanti ai clienti e quindi lo indossavo solo la notte, ma una volta terminato con quel tipo di lavoro ho ricominciato a utilizzarlo tutti i giorni, tutto il giorno, anche perché io dovevo indossarlo per almeno 18 ore al giorno in modo che facesse effetto. Molti mi hanno detto ma come mai, come è possibile che un adulto abbia il baffo eccetera, è possibilissimo, funziona anche sugli adulti. Anzi, forse è uno dei pochi metodi veramente efficaci sugli adulti, dato che gli adulti hanno un'ossatura ferma, a differenza dei ragazzi che hanno ancora i denti mobili o comunque una mascella più morbida, fine 22 anni i ragazzi possono fare tranquillamente i trattamenti ortodontici senza alcun problema e finire veramente in brevissimo tempo, perché i loro denti si spostano molto più facilmente, mentre un adulto invece ha bisogno di più forze perché comunque i denti sono già fissi ovviamente e quindi ci vuole più tempo e più costanza e anche trattamenti un pochino più impegnativi. Ma per quanto mi riguarda, a parte l'imbarazzo iniziale, ho superato tranquillamente questa cosa, tanto è vero che lo portavo con disinvoltura. L'ho sempre messo, ora non lo devo più utilizzare, ma praticamente ho anche finito con l'apparecchio, è solo questione di tempo appunto come già vi dicevo prima e quindi mancherà veramente pochissimo prima che io tolga tutto. Dopodiché il lavoro che andrò a fare io sarà appunto di rimodellare i denti, sistemare le altezze perché anziché essere così qualche dente così proprio per come è cresciuto storto e alcuni invece hanno preso una forma diversa, si sono sbeccati proprio a causa dell'apparecchio perché magari ci vada a sbattere e quindi hanno assunto una forma diversa che andrà modificata. Quindi sono solamente dei minuscoli ritocchi che io andrò a fare subito dopo aver tolto l'apparecchio. Spero di potervi aggiornare presto, lo so che è questione di tempo ormai che manca veramente pochissimo ma non sto più nella pelle perché ovviamente dopo tutti questi anni non vedo l'ora ecco. Perciò ragazzi se avete qualche domanda da farmi fatemi pure delle domande qui sotto perché così almeno potrò rispondere a tutte le vostre curiosità, domande, insomma tutto quello che volete. Io per il momento vi saluto, vi ringrazio tantissimo di avermi guardata, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!